L'azienda Mariani è nata nel 1878, quest'anno facciamo 140 anni di storia, sin dagli anni 60 esportiamo un po' in tutto il mondo. Abbiamo vinto nell'ultima fiera a Las Vegas il People's Choice Award con la nostra collezione Pompon. La nostra produzione viene fatta tendenzialmente solamente da donne, perché sono proprio le donne che riescono con una loro sensibilità a dare un tocco diverso al gioiello e che poi sono loro ad essere gli ultimi utilizzatori e consumatori.